bro grazie mille grazie mille bro per aver regalato le sub abbiamo appena sfondato la soglia dei 7.000 let's fucking go siamo arrivati più di 7.000 sub 7k 50 emote e ora ragazzi siamo arrivati al massimo ottenibile e ora bisogna mantenere i 7.000 sub perché una volta mantenuti 7.000 sub avremo la possibilità di mettere l'emote globale è quello che sto cercando di fare da tanto tempo non lo so non lo so perché mi devo abituare ai suoni sono sotto in uscendo pioggia stiamo dopo bella massa no raga qualcuno io no raga sono qua sotto c'è uno qua sotto ce l'hai sopra non ho materiali per farlo mi chiedo i materiali tu mi servono dei materiali non posso aiutare blink se no no te la potrò io sono a posto io sono a posto ah il ninja di bari era sono tornato diego qua sotto secondo me no ne ho laserato uno sulla fiancata e marzo ha un hp con la pistola ragazzi l'ho fatto sopra lo vedo raga ma sta laggando tantissimo non riesco a buildare marzo non andava da solo ma non ti possiamo aiutare ma nostra li sei da solo non ho materiali non ho materiali non posso fare niente raga dove sono? vai 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 dove sono raga? qua la 10 no 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 dal lato dal lato dal lato dal lato dal lato verso azizio raga si diverte a spararmi dal lato bravo un altro era nel una costruzione rotta al centro eccolo eccolo sotto nel basement no non mi sento raga non mi sento questo è questo di sinistra qua dietro invece era sotto stanno sparando ragazzi li sentite? ah ok c'è raga venite un attimo ci vediamo un secondo dove sono le bende? dove sono le bende? te lo lasciate te lo lasciate se vuoi posso restituire il favore dei colpi eh andrò un po' di culi qua va ce l'ho davanti arrivo che cosa fa sto bot a pedale? guarda com'è rechippato sto bot uno di voi si venga a tirare il chuck jug c'è un botto di loot venite un botto un botto raga venite c'è roba buona sono buono questo raga venite uno si tira il chuck jug vabbè vai dimmo vai ci va ci va ci va ci va tira però il cazzo ci va ci va ci va ci va dov'è? vabbè è sopra? bravo io ho il tempo il medici come sempre ho hanno rizzato vuoi dare il traghetto? dai andiamo in mezzo al lago stanno fai dando sopra la casa ci riuniamo e li pusciamo che dite? vi va? oh bello Federico ninja non ti distrarre vieni stiamo pushando e tu stai andando nella direzione opposta dove stiamo andando noi stiamo andando stiamo guardando eh infatti vieni da noi sto arrivando c'hanno appena dove? non lo so mi sa da sopra da sopra oh my god non è sopra la montagna non è sopra la montagna 300 no non lo so quello da dove ci hanno sparato no sopra la montagna no vabbè entriamo dentro lì al lago e vogliamo gli in testa stanno fai dando sopra eh marzone è come un cucciolo di labrador si perde vede una farfalla si muove ok da sinistra 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 nord west per voi nord west per voi e io sto salendo su bro andiamo su andiamo su e io sto andando su giocatore no me la vedo io comunque vi serve una mano? quanti sono? si erano due speri che un po' sta fermo sta dietro l'albero un coglione si è figa questa cosa no 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 puro è un coglioncello blink arrivo blink ok vado su da favore io ero andato un attimo qua prima prima a costruire per il marzone e poi sono andato da lì oh ragazzo c'è la roba mazza ma lei si oltre no ce l'ho ce l'ho ce l'ho mi sento scorda usa il mio è più bello sono tutti? si ma poi il mio si sente su sono inutile ragazzo eh no ma mi hanno pushato qui in alto bro no please non mi prendi tu sono blinki eh non c'è niente prendi il rampino se vuoi cosa ti serve marzo? oh materiali vado giù in seconda a prendere del lutto qua c'è lo sniper che bella questa cosa mi piace tantissimo materiali non avevo niente non ti massai marzo? dove c'è? niente non c'è niente eh tieni il cento e siamo qua sto rivolando su eh adonna quanto casino che fai? davvero fa così il bordello sta cosa? no ma non dopo lo levo dopo lo levo dopo lo levo se fa bordello no no ma non sei tu eh non sei tu in generale ah ok pensavo che era sto coso senti senti che casino che fa vado tutti giù anche quando prendi adesso fai cadere quando volete ragazzi andiamo ah questo è il massimo che va vado controcorrente vado la mia vamonos vado verso i rim eh non ci sono più li li hanno levati ormai intera attenta il totem per me quel po' no ma assoluta cosa fai hanno ristato sopra la montagna ehm preso eh volevo prenderla anch'io ma non si può dietro marzo oh what the fuck c'hai avuto veramente il tempo di reazione di un topo morto ma perchè quale motivo stavano là senza fare rumore uno solo era niente io la fa salvare il marzo c'è la musica 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 c'è la cosa non so ci hai per te i materiali si 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 sto cercando di dire a secondo a a marzone che c'è il mary ce l'ho i materiali e poi ce n'è un altro prendetelo ce l'abbiamo davanti nella ballata c'è uno nella zona di oscurità attenzione che mi sa che c'è bussian ombra usiamo un rift se vuoi no no ce l'abbiamo qua davanti zi perché devi stare il rift a una 20 metri perché non sapevo dove c'è la zona guarda quanti ce ne sono dentro no è un'ombra raga sia a sud che a sud estra è un'ombra raga che lag animale qua ma mi sono caccato addosso posso avere un paio di città dove prima l'ho lasciati sono due team che fightano e non sanno di noi andiamo madonna stanno sprecando il rift eh lagga un po' sta laggando pure io l'avevamo successo poco fa lagga perché ti devi tipo un portafoglio niente la missione delle 20 bombe we can't do it da te lato buona devi fare il pio ancora una cotta una chile oh c'è un po' che sull'accia rift portati oh nuovo io ti lancio di là qua davanti a me lascio uno scar normale ma tanto arriviamo che li ho uccisi tutti è un full team andiamo vieni qua veloce 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 eh stavi caricando lo sniper uno muore da beh oh una kill fino a niente di niente la pigio tra 321 io ogni volta che iniziamo a fightare me li perdo e poi quando ho capito dove sta uno mi si muore davanti agli occhi ormai è una cosa che non si può fare niente ok che cazzo che fai facciamo 4 di 4 per recuperare il tutto poverino quello rega tempo di giftare le sub un pochino di poggers in chat ciao